E ciao a tutti ragazzi, questo è un video, io sono la Rai207 e oggi ragazzi faremo un video diverso dal solito insieme a Danny e insieme a Giuseppe di Sta Comunque oggi faremo un video diverso dal solito che dovremo segnare solo di trickshot In realtà io ci provo perché io faccio in realtà schifo nei trick però proviamoci lo stesso, andiamo nel match Io ho messo il bello perché avevo la missione e spero che mi danno bei gettoni Ok siamo contro un energetic pam Oh come si è permesso di andare vicino all'oraggi Passa a me, passa a me Per me sarà molto difficile ricordarsi Passa a me, passa a me, passa a me Giuseppe Passa a me, che non sai fare Rip Rip raga, per me si può fare soltanto quel trick ora Oh no 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 Assolutamente aspetta Me dei, me dei Ah e vabbè, all'improvviso qua viene un surge Che ci disturba, mi dispiace signor surge ma non ci deve disturbare Comunque ragazzi spero che i 400 iscritti ci arriviamo entro il 6 novembre Perché se ci arriviamo entro il 6 novembre Eh, sarà molto bello Non proprio perché il 6 novembre è qualcosa di importante però Perché così ho voluto trovare una data un po' strana Un po' così Solo Danny lo sa Solo Danny Anzi Danny neanche lo sa soltanto Andre Che cos'è il 6 però Eh sì everyone Passa a me, passa a me Passa a me Passa a me Passa a me Eh giuse Impossibile raga E ora come facciamo i tempi supplementari raga Che cavolo facciamo Raga è impossibile No Stavo per tirare perché Perché gioco di Non ci credo Si coca Si cicado No 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 Raga è impossibile i supplementari Ok almeno ho finito la missione con Belle Almeno quello Almeno quello è impossibile 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 Ehm Causa Vabbè vai Comunque Danny non è scarsa Non è scarsa assolutamente Ehm È come Andre Sembra Come Andre Vabbè Ma a parte Oh Beh 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 Medeo Eh però sta Eh vabbè Mettiamo anche Edgara Eh vabbè Pure la testolina No Ma Che chi l'ha fatto Raga come caspita Ha segnato Raga Qualcuno deve stare in difesa Eh Ehi Vediamo cosa accadrà Oh Oh Mamma mia Ho fatto il trick Che ciccato Ciccato Che trick però Un trick In realtà io Stavo segnando Però all'improvviso Mi è venuto un trick Sono stato un fortunato Assurdo Eh vabbè Eh vabbè Pure se la Il Più forte Bibi Sono io Rispetto a lui Perché Lui non sa proprio Giocare Soltanto perché Aveva full vita No No Mettete Eh vabbò Oh Sta big bubble Mi ha Un po' Scocciato Bibi Ah guarda Non fa neanche lei Il trick Perché io sono più forte Rispetto a me Ah però Raga Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Ho la big Ho la big bubble La big bubble Aspera cara Non mi faccio vedere Uff No Raga ma che trick Ho fatto Praticamente ho fatto Sbatti muro Sbatti muro E poi linea Ma che è Ma che è Sta sfiga Eh vabbè Tutti addosso Eh Ma me la riesco A cavare Eh raga Guarda come Caspita Facciamo Raga ma non possiamo Sempre perdere Però Sai ora Chi metto Metto Seriamente Raga Raga Dai raga Non deve prendere me Non deve prendere me Assolutamente Ragazzi entrava Ragazzi entrava Si entrava Cavolo Si entrava Io ho fatto solo quel trick Un po' facilino Proprio facile No Però E Vabbè Buonanotte No 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 raga No Rega No Mamma mia Sta già che proprio ha rotto le scatole però Mamma mia No Ok No ti prego Non ci credo Cabo 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 Scusate Eva Basta Però Raga Scusate Se 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 sono così Ma io proprio Quando gioco a Brawl Scrillo così tanto Lo so Scusate Se io non mi riesco a mantenere No perché l'ho L'ho consumata così Ti prego Giuseppe 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 Un'altra partita Perza Non si può giocare neanche così No Danny No La vivi là La palla No Vabbè Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Scrivetevi al canale Ciao 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 Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale